Negli ultimi anni gli studi sul DNA hanno evidenziato quanto le comunità microbiche e le microbiota siano importanti per lo stato di salute dell'individuo. La ricerca ha permesso di comprendere che l'intestino è il baricentro della salute fisica e psichica e che la composizione microbica dell'intestino è fondamentale per il benessere. Il microbiota è essenziale per la salute di tutti gli umani, ma in particolare delle donne, perché è il grande regista della nostra salute fisica ed emozionale. In particolare è importante sapere che il microbiota intestinale è innanzitutto una poderosa ghiandola endocrina. È in grado di produrre tutti gli ormoni, di metabolizzarli e ha tutta una serie di famiglie che fanno dei compiti straordinari. Per esempio, il nostro microbiota intestinale produce e elabora i neurotrasmettitori che governano il comportamento. Per esempio, la dopamina, che è quella che ci dà tutto l'entusiasmo di vivere, la serotonina al 90% è nell'intestino. Quindi il nostro umore è determinato prima di tutto dai livelli di serotonina nell'intestino, modulati dal microbiota e cervello viscerale, poi dal sistema nervoso centrale. Oggi è disponibile un test che realizza un'analisi genetica della microbiota intestinale per individuare eventuali condizioni pro-infiammatorie e intervenire per ristabilire l'equilibrio tra microorganismi e l'ospite. Il test funziona molto comodamente. È un autocampionamento che si può fare a casa con un kit che può essere fornito dal clinico o inviato direttamente al domicilio. Il campione viene rispedito ai laboratori di Bologna dove viene analizzato e viene restituito questo report in cui la composizione microbica viene descritta e soprattutto interpretata in termini di impatto sulla salute dell'individuo con opportune anche indicazioni per poter modulare questo profilo. Wellmicro, nata nel 2015 come spin-off dell'Università di Bologna e oggi parte di Named Group, è l'unica azienda italiana dedicata esclusivamente all'analisi genetica del microbiota umano, animale e ambientale. Wellmicro è un po' il nostro fiore all'occhiello, diciamo che è la punta di diamante scientifica pura del gruppo. Si occupa di analisi e sequenziamento del microbiota ed è sicuramente un qualcosa che nel gruppo Named ha trovato la sua naturale collocazione. L'obiettivo principale è quello di creare un gruppo che sia un punto di riferimento unico a servizio dei propri consumatori e dei propri pazienti. Quindi un partner affidabile in grado di fornire soluzioni efficaci al ripristino dello stato di benessere e all'attivazione dello stato di salute dei propri consumatori.